prima di andare a dormire possiamo fare qualche esercizio per il contorno occhi così il giorno dopo la mattina quando ci svegliamo abbiamo meno gonfiore e meno ristagno di liquidi allora il primo esercizio che puoi fare è attivare la palpebra inferiore così poi posiziona due dita in questo modo e con l'indice tiri verso l'esterno così mantenendo sempre attiva la palpebra inferiore e ancora 3 2 1 e stop rilassa qualche secondo e rifacciamo l'esercizio per altre tre volte attiva la palpebra posiziona le dita e tira verso l'esterno mantenendo sempre la pelle contratta ovvero la palpebra inferiore contratta e 2 e 1 e stop questi esercizi sono molto di breve durata perché è difficile mantenere la palpebra inferiore attiva per tanti secondi e di nuovo attiva la palpebra inferiore posiziona le dita e tira verso l'esterno con gli indici la palpebra è attiva tutto il tempo se vuoi puoi chiudere gli occhi ma attenzione a non stringere troppo la zona glabellare e ancora due e uno e stop e ancora una volta attiva la palpebra inferiore contrai il muscolo posiziona le mani e le dita e tira verso l'esterno così e cerca di tenere contratta la palpebra inferiore tutto il tempo ancora per due e uno e stop picchietta un pochino adesso metti le mani sulle tempi in questo modo includendo anche la punta delle sopracciglia il resto delle dita le appoggi sulla testa premi verso le tempie schiaccia e tira indietro e in su quindi questo movimento a virgola e questo è una mossa e adesso la controforza è data dalla chiusura degli occhi quindi mantenendo la posizione delle mani tirata indietro e in su chiudi con forza gli occhi e tienili chiusi tutto il tempo così le spalle devi tenerle rilassate ma questo non è un problema visto che abbiamo la testa appoggiata respira attenzione a non chiudere con troppa forza gli occhi altrimenti ti si corruga la zona tra le sopracciglia e tieni ancora 5 4 3 2 1 e stop rilassa per qualche secondo facciamo altre due volte questo esercizio quindi mani sulle tempie schiaccia tira indietro e in su così mantieni questa posizione e ora chiudi con forza gli occhi di nuovo ti ripeto non troppo altrimenti rischi di corrugare la zona tra le sopracciglia respira e tieni questa posizione in forma statica tutto il tempo rilassa le spalle cerca di concentrarti sulla respirazione e teniamo ancora per 4 3 2 1 e stop e rifacciamo ancora una volta questo esercizio quindi di nuovo imposa le mani sulle tempie le dita le appoggi sulla testa schiacciano le tempie per agganciare il muscolo e tira indietro e in su quindi devi includere anche la punta delle sopracciglia così facciamo lavorare l'orbicolare dell'occhio e mantenendo questa posa chiudi gli occhi e tienili chiusi tutto il tempo mentre le mani tirano tutto il tempo indietro e in su le spalle e tutto il resto deve essere rilassato quindi non devi sentire tensioni al collo alle spalle respira e abbiamo ancora 5 4 3 2 1 e stop e adesso l'ultimo esercizio che possiamo fare è di nuovo attivare la palpebra inferiore e premere con gli indici così teniamo la palpebra attiva premiamo facciamo pressione con gli indici ancora per 3 2 1 e stop anche qui facciamo più ripetizioni di una durata breve e di nuovo attiva la palpebra posiziona le dita e premi sul muscolo attivo devi sentire il muscolo un po gonfio e fai pressione sul muscolo ancora per 3 2 1 e stop rilassa un attimo puoi premere anche con tutte le dita così quindi attiviamo di nuovo la palpebra inferiore posiziona tutte le dita come se dovessi suonare il pianoforte e premi con le dita mantenendo sempre la palpebra inferiore attiva ancora per 5 4 3 2 1 e stop e facciamo altre due volte quindi attiva la palpebra premi o con tutte le dita con solo con l'indice così e tieni in posizione per 7 6 5 4 3 2 1 e stop adesso ti mostro ancora una variante se hai difficoltà a mantenere la fronte distesa e rilassata quindi se hai problemi di corrugazione della fronte appoggia il medio e l'indice sulla fronte in questo modo e l'anulare il mignolo sotto sulla palpebra inferiore e fai la stessa cosa che abbiamo fatto prima quindi attiva la palpebra e premi con l'anulare respira e mantieni questa posa per altri 6 5 4 3 2 1 e stop bene è arrivata l'ora di andare a dormire io anche durante la notte mi preoccupo che il mio viso non venga schiacciato infatti da tempo uso questo cuscino che ha questa rientranza questo buco dove va a finire la mia guancia e così durante la notte il mio viso la mia pelle non si schiaccia ah un'altra cosa molto importante durante la notte è fondamentale che tu dorma nel buio totale quindi niente lucine della tv o delle sveglie se non riesci a raggiungere un buio totale puoi usare una mascherina che copre gli occhi come questa e quindi dormire in tranquillità col buio e assicurandoci di produrre abbastanza melatonina che ci rende più giovani approfitta del black friday per avere degli ottimi sconti sia sul corso di yoga facciale quindi imparare gli esercizi per tonificare il tuo viso ma anche sconti sul cuscino antirughe così e anche su questa bella mascherina di seta ti lascio tutti i link con i codici sconto nella descrizione sotto i video ciao e al prossimo video